Dopo l'ennesimo esposto all'autorità garante per la concorrenza e il mercato a proposito del rincaro dei prezzi dei voli, in particolare da e per Roma e Milano, si è riunito per la seconda volta a Palazzo d'Orlean l'Osservatorio per il Trasporto Aereo, l'organismo voluto dal Presidente della Regione per il monitoraggio del traffico aereo da e per la Sicilia. Tra le proposte, un'ipotesi di scontistica applicata unicamente ai viaggiatori residenti in Sicilia è consistente in un contributo economico regionale da applicare ad ogni tratta, con l'obiettivo di attenuare l'impatto economico del carovoli. È la costituzione di una rete di aeroporti siciliani di cui farà parte anche la Regione, al fine di cooperare in un'ottica di sistema e sviluppo congiunto. Le linee di intervento della rete di aeroporti della Sicilia riguarderanno i collegamenti tra aeroporti e territori regionali circostanti, la promozione della Sicilia intesa come offerta complessiva e infrastrutturale, la creazione e l'emissione di card integrate ad uso dei turisti valide per tutti i tipi di trasporto dall'aeroporto di arrivo ai territori di permanenza turistica e viceversa, la gestione di eventi internazionali, la gestione integrata delle emergenze di protezione civile e con possibile ricaduta sugli scali regionali, l'ideazione di un brand e la condivisione di strategie commerciali, l'interscambio di buone pratiche e programmi di formazione congiunta, la realizzazione di gare congiunte per specifiche categorie mercedologiche. Nel corso del dibattito è stata sottolineata la necessità di portare avanti il percorso di riconoscimento della condizione di insularità e della continuità territoriale per assicurare adeguati benefici dei residenti nel sistema dei trasporti. È stata avanzata anche la richiesta al Ministero dei Trasporti per migliorare e incrementare i collegamenti ferroviari da e verso gli aeroporti siciliani.